L'inizio è davvero spolgurante, palla al centro, Fanna in fuga sulla destra, cross, Pellegrini e Scanziani pasticciano, penso invece non perde tempo, gran sventola, niente da fare per Paolo Conti. E al quindicesimo è proprio il neo entrato Renica che con una gran botta dai 30 metri complice la fitta nebbia, ecco il tiro, batte Garella. Facciamo mettere una riflessione su questo giro d'andata del Verona, non può che essere positivo il bilancio, ma io non direi positivo, direi positivissimo e poi aggiungerei altri aggettivi, insomma per dire il giro d'andata del Verona, perché non ci sono aggettivi che merita questa squadra qua, insomma ecco perché qua siamo al di sopra di tutto quello che uno poteva pensare. Ottenisticamente riempio.